Prima sfida del girone di ritorno per il Gabice Gradara che sul sintetico del vecchio comunale conclude senza reti il match contro il vigor Castelfidardo come all'andata. Tra i pali ottimo esordio del giovane Lorenzo Alessandrini, classe 99, assenti Palazzi, Broccoli, Facondini, Greco e Muratori. Un primo tempo di studio per entrambe le compagini, attente a non scoprire i fianchi. Per vedere la prima fiammata è necessario attendere sino al tredicesimo con il vigor Castelfidardo che prova ad affondare il colpo con il rasoterra di Carini, facile preda di Alessandrini. Al diciassettesimo ancora locali pericolosi con l'imbucata di Piccini che trova l'opposizione dell'uno rosso-blu. Al trentaduesimo si fanno vedere gli Adriatici con questa parabola ad Arcobaleno di Costa, Martino si rifugia in angolo. Rispondono allora gli Anconetani al trentottesimo, Flipper in area, prova ad approfittarne Vergani che alza però troppo la mira. Prima di andare negli spogliatoi iniziativa di Marchetti da lungo linea ma Cesaroni viene anticipato al momento del tiro. Si passa allora alla ripresa decisamente più vivace. Al quinto minuto Simoncelli lascia il posto a Rossi ma il primo sussulto è targato Castelfidardo, palla out. Gabice gradara nella tre quarti al diciannovesimo. Bello scambio fra Cesaroni e Marchetti il cui sinistro fa volare Martino. Un minuto più tardi alla volta di Sabatini un ricorre in movimento che si spegne oltre il legno. Al ventiquattresimo rosso-blu ancora sugli scudi. Marchetti invita alla stoccata Tebaldi ma lo stop non è dei migliori. Capice gradara allora Mai Domo al trentaquattresimo lunga gittata di Tebaldi. Batti e ribatti a centro area sulla sfera servente Arduini Marino si distende. Al trentunesimo occasione da gol per il bianco-blu sui piedi di Piccini che divora così l'ottima chance. Un giro di lancetta più tardi ancora Vigor pericolosa nuovamente con Piccini che non c'entra però il sette. Al trentaseiesimo risposta rosso-blu Ferrani con il destro non sorprende l'estremo conetano. Minuti finali punizione velenosa dei nero-azzurri a cui risponde così Costa. 0-0 il finale allora al vecchio comunale tra Vigor Castelfidardo e Gabice gradara. Un punto importante per gli adriatici per risalire la graduatoria in attesa che se suoti l'infermeria. Prossimo impegno domenica lo stadio Maggiore 14.30 contro il Villa Musone.